Non è possibile lasciare i dipendenti con famiglie, con debiti, con questione che si stanno prorogando da anni ormai. La vicenda terina ormai è sotto gli occhi di tutti e bisogna una volta per tutte venire a capo. Se non fosse che la situazione si trascina ormai da anni, costringendo a vivere alla giornata circa 40 dipendenti, ci sarebbe perfino da sorridere. Ha del paradossale quanto sta avvenendo alla Fondazione Terina. L'ente in house della Regione Calabria che si occupa tra l'altro di ricerca e in dotazioni apparecchiature milionari mai usate, non solo non riesce ad ottenere il pagamento degli stipendi dei suoi lavoratori, ma ora si è anche vista pignorare quanto destinato dal Governo regionale. A mettere le mani su circa 700 mila euro i creditori della Fondazione, anch'essi affamati da tempo, che hanno lasciato a bocca asciutta i lavoratori. E così la situazione si ripropone. Il Governatore nel momento in cui ha stanziato i soldi doveva, come si dice, si doveva blindare, nel senso che bisogna fare un capitolo di bilancio per quella dicitura che i soldi sono destinati esclusivamente dagli stipendi dei dipendenti, perché se mette il funzionamento dell'ente, giustamente i creditori aggrediscono le somme a noi stanziate. Era al momento i salari mai arrivati nelle mani dei lavoratori, il tutto mentre giace in un cassetto la legge di riforma 24 del 2013, che prevede che parte dei dipendenti vengano inseriti in altri enti o agenzie regionali, alleggerendo così il carico di stipendi. Una situazione che ha insomma in seno già da anni la norma che potrebbe risolvere il problema alla radice, ma che non trova chi voglia applicarla. Faccio un appello al governatore Oliverio di una volta per tutte risolvere il problema della fondazione Terina. Tiziana Bagnato per la CNews24.